E' di 12 partito di campionato valido per FFK, Liga, MCB, a una notte di incendio dominguito, Victory Boys. Bomi di un via massa attraverso di Motion Invasion, cosa direttamente per il stagion dottor Antoine Maduro che è da Ken Chang. Ora, il campionato di anni passato, dominguito, topa che guattapana di Santa Rosa vicendario con la Victory Boys. Dominguito va in direzione di Ingemar Inge Piternella, mentre l'equipo di Victory Boys va in direzione di Marcelo, Cielo, italiano, Marcelli. Tutto l'equipo ha avuto un empate, Dominguito ha avuto un empate con il John Holland, mentre l'equipo di Victory Boys ha avuto un empate con il John Columbia. L'arbitro principale per metà è Sam Haye, assistì per alzare, e da me insegna. E di quattro oficiale, da Mike Fang Santa. Reines, da comisario di partito di Aue. Cielo, 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 le costano molto lunghe, le gallo di varia in giro, trovere di varia in giro, è stato un parco peligroso, un pietro vicino. ma che fecha di AVE, 14, 05, 05, 26, l'equipo di 0, avanzando Lindo, Lindo da 30, Lindo da tiragol, goolazzo, Victory Boys, capitano Lindo, da 30, Lindo, черtelo bello,есcribo e Gianni P delivered al portico, senso il tempo che ciNS sura, un flo inte zo, un po anadio, nel comentario di Mirko Colina? Si, maggi sarån, capitano Lindo, che è lindisime in qui leagues, bisogna tirar宮ci e Leopoldo, ci sono che ricco di una battu, si sono arri Marie Madagliana, avella il giorno ero uno cerro dei VT y noi passiamo due games, e ora che vorrò per la mira, un passaggio forte per l'attrazione la defensa, arrivando dal medio campo, un passaggio largo la defensa di Dominguito Toc non sta, non ha trabato poi vale, mi ha rechazato, fuori d'Ensuari e mi ha fatto il risultato che è lindo e mi ha visto lindissima a mandare 10 minuti se non passi via con un certo 18 minuti di partito Filtro di voi sono Dominguito Cero colasso di Capitano Lindo e tu non sai che pota mirare, come sai, attraverso il modo di deporte motion and fashion, con Awe, Jodian Trinidad, nella camera Roger Nivellac, anche nella camera e come sai, i nostri produttori, anche nella camera qui arriva, con la chiara alza e quindi è una narrazione sempre di un boss di Maurizio 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 Maria non sei bala da seguire loro Filtro di voi schietto vai di lante un panada colasso di Lindo arbitro principal Sam Fifa Heier Soncia, duro di lante si non DPressord 300 no no e intrignrollmente non più un pie non più il piastale è un cake boxe saque di Bank of Victory Boys John Sir John Wayne Cannot Cunce Pierro B drentando buon cruza di Cannot Cunce buon cruza di Cannot Cunce attenzione Domeguito con la specie accia da me dei accia da corte quello portero da drenta tiro di gol colasso gol gol no si gola no 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 la pitta è gol è la pitta è gol si 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 Niccio 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 Kalkhofer non sape che vuole da Pata Parfena a cica corte Parfena la zona del posto orizzontal via da Pace nel terreno a cica corte è buono si si ci guarda ma ne sono vencò che porassi mi ch тепra di il Parche da Pagli Dio si 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 mi chiede e paddamenti secondo Domeguito Prego di assistenza è la parte Non, 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 è laνοia, ma ora è ora che... Siamo vai e allora vai bene a tutti? aldate, lì... avrebbe fatto sempre lo zato. Bahia, spaventata gol... Sì, spaventata gol. Sì, spaventata gol, ma sarà un'entata. Llega un'arguazione, un'arguazione... Acha! Padre di Pia Farfelu Buscando Eta biratira Llegando, rechazo Llegando da volta che Giovanna Martina Eta tocca buon pa' Gemi Gemi da tarra demasiado Gemi da burba dibay Gemi da burba dibay Gemi da burba dibay Gemi da conta di Gemi Gemi sale buon o si? Gemi sale buon Gemi da burba Gemi da burba Ok, mentre tanto de 2 metara comissar Victor e Boyce com 2 cambios Um pro meco no se ve sossegar Eto un den se ve guidame Não se veem ver que ele ve caminam De una manera tiro o libro Que John Martina ve corto com Piero Vez Que John Martina Smith ta medrena partido Que me ni Smith Si, que John Smith Si, do cu... Ok Quarta Gol 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 Qua cana, cana, curva di Gieba e pega di Ucchi, non vorrei alcance, dici io. Corazzo dell'equipo di Vitri voi, sul commentario di Virgo Colina. Bonita, ben accanto, per dentro di Pia, però con il suo treno di futbol, pensavo ben accanto, un corte, bonita, bonita, anche se sei net, ma andrei a Ciarzinho, Peter, con un po' così, nada, nada. E dai quei balla, dai né a tira di lancia, buon corte! Vigione! Perché per mare vira un corno? 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 Perché se sei balla mi mette veno. Sì, sì, sì. Sì, sì. Outro corno, Vigitri voi. Sumbia ma Jamie DeCaster. Padengo di Pia, curva per il grosso! Dalle lato, eh? Forzandosinho! Toca il cortico, accia Bernardes! Putando un'equipo di centro, attacando, Steve or Sambo! Marcazione di Johnson! Johnson da qui da qui! Avanzando! Putando un'equipo di scena! Trent'anno a Portino! Portino da tira! Goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool! Grazie a Víctorio Ibois, fortino a Cabe 30, fortino a tu me fasi, fortino a avanzare e fortino a gloria per l'equipo di Víctorio Ibois. Víctorio Ibois 3, Dominguito 1, è un commentario del commentarista. Un buon gol costruì di Víctorio Ibois, maniera non sabisa, fútbol bocicunque è come tre linea, sali febbo di defensa, comunica come medio campo e poi buscò modo di abilità delantero. Correttamente Víctorio Ibois, ah sì, è tra poco e forte un passo arrivo a medio campo. Mentre me stai lì mi leggono, che trova più uno tipo di deporte, fútbol non è scatta. È un po' di più, che per me è un po' di più perleggio, è un po' di più. Ok, balla a seguire lì. Puoi rimuovere il gioco di Víctorio, da un po' di più, sicuramente non è proprio un po' di più, è un po' di più. accia devi la tirare di breve reciazzo domina per forti vale vale si si mi sa che mai no accia accia dominguito dominguito esta corta ventaja aqui en Parfelo si, Parfelo pasó aqui 8 minutos grande y bonina algún descuento un gestor hace 15 hace aquí buscamos la movechón tomar para salir mas la banda esperando el cruce el cruce con Parfelo un cabezazo en la ultima hora dominguito 2 victoria boys 3 atacando buscando paz no mucho pastolón pensando arriba canot canot peligroso un taconcito buscamos la movechón para renda jojo un punto de pie alto para libre que combinación un tiro de desesperación si 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 final final victoria para el equipo de victoria y después de basta dominguito está perdiendo su invicto pero es un tremendo partido es un gran partido y manera no se avisa por el comienzo de juega el partido aquí está movible árbitro buen trabajo durante el partido él ha cumplido su sin embargo no se avisa un gran partido no se avisa 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 y se avisa junto con sus dos asistentes y salir sin ningún a la 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 ho un'occhio, 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 un'occhio. Si, assistente non ti assiste, ma non è poco il bambino. Quando gli avessi segno, non si fanno in base, si fanno la palla, si fanno in base, si fanno in base. Si, se non si fanno in base. Non si fanno in base, e si fanno in base, e si fanno in base, e si fanno in base. Non si fanno in base. No, però ti costa un po' di trecce. Quello che io mi fanno passati, non c'è una chance di riequire, entrando con il cuore di arbitraggio, non sarebbe un buon cammino. Un tremendo partito, Víctor de Bois è salita di Porta Grande, e poi arriva via il centro di dominguito di perda. Sì, Víctor. Mi sembrava di Hopi beccato, qua qua, qui dia, il centro di dominguito di perda. Quindi, Víctor de Bois è colo 3 punti importantissimi. Quindi, in Botevisa è un derby, non? E poi arriva qui, ma non si dice sempre Víctor de Bois contro dominguito, un duelo di pari. Sempre arriva qui in su cosa con me. E mi dicono, è un punti importante, non arriva centro dominguito. Un'equipo che non si gano solo la equipe da Botevisa. In Botevisa. Questa è una maniera con 6 punti. È corretto. Ora, per dare un grande? Per dare un grande? Sì, sicuro, sicuro. Per dare un grande. 3 punti sarà. Sì, sì, sì. Buon partito così. Sì, buon partito. Motion Invasion. È stato di turcoz. Grazie a tutti i miei amati che ci stanno con noi. Vieni a parte dei commenti di Mirko Colina. E a parte dei narratori. Buon amico di siamo. Maurizio 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 Maurizio. Grazie. Grazie a tutti. Vieni a che prossimo Transmission. Grazie. Grazie a tutti.